Buongiorno, siamo qui a Cisco Live in Milano e siamo qui con Knud Ottosen, direttore dell'Allianza in EMEA Buongiorno Knud, vorrei sapere che sei l'allianza direttore dell'allianza, quali sono i benefici di questo importante allianza tecnologico partner di Cisco e NetApp? Quali sono i benefici per il mercato? Penso che abbiamo diversi benefici di lavorare con Cisco. Se vorrei mentionare alcuni, è che in tre anni abbiamo lavorato insieme, abbiamo avuto 3.200 clienti, potete acquistare le nostre soluzioni in 78 paesi, è un milionario negozio, e molto di quello che facciamo, facciamo insieme in un'associazione, tra i designi validati, che è chiamato Flexpat, come sai. Penso che è molto beneficio per i due parti, funziona molto bene. Ok, grandi numeri, Knud. E poi, vorrei parlare di questa nuova trend, la infrastruttura convergeda in il datacentro. La soluzione per NetApp e Cisco è chiamata FlexPod. Quali sono i trend che vedete per questi tipi di soluzioni nel mercato? Ciò che abbiamo apprezzato ora nel mercato sono molte soluzioni convergede infrastrutture. e ciò che abbiamo visto in Cisco Live, ci sono alcuni di introduzioni di Cisco, e uno di loro è chiamato Intercloud. Intercloud si funziona sui piuttori, pubblici e hybridi, e fa molto più facile per i nostri clienti lavorare. Soprattutto nel servizio di servizio, in quel modo di vendere sempre a riscaldi, già potrà farlo alla costruzione in una semplicazione più facile e nel ogni gioco di avere una grande probabilità di sviluppare parecchi. Insomma, questo lo si rendrebbe meglio per i nostri clienti, customers like British Telecom who have said that they will bring these new FlexPod validated designs into their environment to sell to their customers because Cisco and NetApp has also launched a unified FlexPod financial solution so you can actually pay as you grow and that's very much wanted from the service provider side so it actually kicks off a lot of different messaging and good stuff that we can present to our customers and our partners okay thank you Knud and thank you for our listeners watchers thank you